scusa posso usare il tappetino? posso usare il tappetino o no? lo posso usare o no? dammi 5 adesso però posso usare il tappetino un altro 5 si? dammelo con l'altra zampa dammelo con l'altra zampa sempre con questa si? adesso ti levi dai coglioni o ti devo staccare il naso guarda lei quanto è buono